Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Giovedì 25 aprile, festa della liberazione, la mattina si svolgerà una cerimonia all'altare della patria alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Dalle 7.30 di giovedì è prevista la chiusura di Piazza Venezia con la deviazione delle linee di bus lì normalmente in transito. Sempre nella mattina del 25 aprile corteo dell'Associazione Partigiani tra Torma Arancia, La Garbatella e Piramide con temporane chiusure al traffico e deviazioni bus.